massimo bonella in studio per pianeta oggi reporter comodo 2000 dunque parleremo quest'oggi di nuove tecnologie web radio web televisioni e soprattutto l'integrazione tra queste nuove tecnologie con le radio e tv terrestri quelle tradizionali ecco in studio con noi scusate in collegamento telefonico da treviso abbiamo il proprietario di una nota web radio che poi anche un network che attorno a queste emittenti ci sono una serie di emittenti web di taglio locale ognuno parla del suo territorio però ogni volta che c'è una diretta tutte si collegano e si forma appunto il network questa emittente diciamo questo grande contenitore riceve anche dei programmi che vengono realizzate realizzati dalle radio o dalle televisioni del digitale terrestre infatti non è solamente radio science ma è anche radio science tv dunque in collegamento dicevo via skype abbiamo rosario moreno titolare di radio science rosario ci sentiamo intanto un saluto cordiale ciao massimo buonasera buonasera tutti ascoltatori allora io ho buttato un po di elementi che prestano motivo di approfondimento in questi otto nove minuti che abbiamo a disposizione dunque ci può essere quindi come dire interesse ma anche un lavoro costruttivo nell'integrare la radio del web con una radio tradizionale una radio terrestre ma certamente massimo io credo fortemente in questo tanto è vera si è benissimo che uno dei progetti che stiamo cercando di portare avanti perché questo perché dobbiamo unire il mondo che internet il mondo digitale con il mondo dell'etere ovviamente non si sa come quando durerà questo mondo dell'etere perché ogni tanto si parla di chiudere queste frequenze di chiudere altre eccetera però la rete ci permette di ovviamente di avere uno sbocco internazionale perché sai benissimo che una radio in fm ha un raggio d'azione abbastanza limitato che può essere locale o nazionale però non internazionale mentre una web radio diciamo uno sbocco internazionale perché ti possono ascoltare in tutto il mondo basta avere internet poi con queste tecnologie nuove che stanno nascendo smart tv smartphone e collegamenti in 4g con i telefonini insomma e con le app a disposizione ci possono ascoltare anche in movimento dalle auto da casa insomma come meglio credono rendiamoci conto però che ancora oggi la rete è limitata limitata in che senso perché per poter permettere a un collegamento a una web radio a tante persone hai bisogno di molta banda a disposizione ecco il limite secondo me della rete è proprio questo ma penso che un giorno o l'altro insomma supereremo anche questo limite spero almeno certo Rosario ecco volevo farti un'altra domanda dunque la vostra emittente di fatto riceve anche delle trasmissioni realizzate dalle radio terrestri non è così è certamente vedi per esempio la collaborazione con radio piper pianeta oggi eventi nel mondo che una trasmissione che va su radio piper e noi la ritrasmettiamo in internet attraverso il nostro network ovviamente questa è una delle tante cose poi abbiamo adesso abbiamo iniziato anche una collaborazione con cui pianeta terra la trasmissione una trasmissione che va su radio va su radio out mark se non sbaglio se non sbaglio il nome e la ritrasmettiamo anche noi queste emittenti che ho nominate sono tutti in fm oltre ad avere insomma un loro sbocco su internet però sono prevalentemente in fm insomma con il loro diciamo la generazione che è locale più che altro ecco diciamo quindi Rosario che queste emittenti online ricevono delle trasmissioni delle radio terrestre soprattutto diciamo anzi esclusivamente giornalistiche cioè di parlato cioè gli approfondimenti certo certo sono tutte trasmissioni di approfondimento quelle che stiamo portando avanti adesso noi abbiamo come radio science abbiamo diciamo come trasmissioni più ludiche diciamo abbiamo quella del lunedì che provvisoriamente i due compari più una trasmissione che tratta tutto ciò che è il campo musicale presentazioni di gruppi e cantanti nel campo della musica che sono poco conosciuti perché sai benissimo che noi adottiamo la regola della licenza creative commons che è una licenza che permette a tutte le persone di poter condividere la propria musica col mondo interno insomma con tutte le persone in internet certo questa è una della trasmissione la seconda è quella sui social network sui social questo momento sta andando la trasmissione social evolution che prende di mira tra virgolette luca prende di mira i gestori administrator di queste di questi social di queste pagine su facebook insomma lei porta tra virgolette al grande pubblico della radio della web radio in questo caso e poi le altre trasmissioni che abbiamo sono completamente giornalistiche di approfondimento insomma politiche lo possiamo dire ma non partitiche ecco l'importante è non mischiare i partiti con quello che è l'informazione ecco esatto quindi una indipendenza della politica certamente questa è l'indipendenza della politica ma dai partiti perché poi in effetti politica la facciamo tutti i giorni quando parliamo di mafia quando parliamo di di argomenti sociali no della disoccupazione dell'occupazione delle case in effetti anche quella politica se vogliamo ragionare bene insomma eh ma l'importante ripeto è il il discorso che non devono entrarci i partiti questo è importante i partiti perché non esistono partiti oggi che fanno l'interesse vero interesse della diciamo della gente possiamo chiamare popolo quello che vuoi insomma però della gente e lo stiamo vedendo tutti i giorni quello che accade ecco veniamo eh alla tua emittente ehm dunque quando è nata mi fai una bella domanda perché eh vieni presente che gli esperimenti come web tv o web radio in collaborazione con Gianluca Mancuso che tu hai già intervistato in questa trasmissione sono partiti il 2011 31 dicembre 2011 o qualcosa del genere insomma 2012 eh così come vedi eh insomma il tipo di palinzesto che portiamo avanti però gli esperimenti vanno avanti da tanti anni sono esperimenti più che altro locali insomma le mie eh diciamo a voler imparare a usare questo strumento per mettere a disposizione delle persone tanta informazione ma soprattutto eh di far aprire gli occhi di far risvegliare quel neurone che la gente ormai insomma c'è si è assopita insomma non ragionano più vedi come vanno a votare insomma basta guardare quello certo allora eh Rosario ecco io ne ricordare anche le radio che metteranno in onda questo settimanale vale a dire dal nordest d'Italia Radio Nuova Musica Radio Piper Fontana Fredda quindi la tua ovviamente poi in Italia abbiamo la nota RBC Grosseto eh fino diciamo a Radio Orvieto arrivando a Rete Cento Passi ecco tutte queste emittenti se hanno un programma da proporre un approfondimento ecco ben venga possiamo dire così certamente ben venga siamo ma ne siamo aperti a eh a ogni tipo di collaborazione l'importante che sia una collaborazione seria che non prenda in giro la gente eh oltre che noi ovviamente perché ci sono tanti falsi profeti Massimo in giro ne ho conosciuti tanti quindi e devono essere persone serie collaborazioni serie stiamo portando già avanti alcune collaborazioni insomma come sai benissimo con Antimafia 2000 con la trasmissione Osservatorio Antimafia il mercoledì sera alle 22 è una collaborazione anche con Antimafia 2000 la nota rivista online di Antimafia il direttore Giorgio Bongiovanni certo ecco Rosario dimmi ecco Rosario pensiamo in tempo massimo eh fine del tempo massimo eh un indirizzo e email da ricordare? Allora info chiocciolaradiosaiuz.it e iscrivetevi anche se per caso volete eh partecipare al network aprendo una web radio. Eh questa è una novità ecco molto importante grazie Rosario buon lavoro. Grazie a te buon lavoro anche a te un caro saluto a tutti gli amici ascoltatori. Bene un saluto anche a Ugo che è il tuo assistente di regia dunque un saluto anche a tutti voi gentili ascoltatori che ci avete seguito. Pieneto oggi il rapporto termina qui grazie per averci seguito al prossimo appuntamento tra una settimana. A presto un saluto da Massimo Bonella. Grazie a te buon lavoro anche a tutti gli amici ascoltatori.